Muy buenos dias model, bentornate sul mio canale. Oggi parliamo di depressione, tristezza, emotività legata al cibo, stati d'ansia, quindi tutto quello che toglie energia o comunque uno stato dove c'è poca energia. Cosa fare per salire da lì? Ha a che fare l'alimentazione? Insomma vedremo tutto questo, io sono Luca Veronese, mi occupo di rimettere in forma le persone, di tirare fuori la tua migliore versione partendo sicuramente dall'alimentazione, poi per l'esercizio fisico, poi per sviluppando un buon mindset eccetera eccetera, quindi cercheremo oggi di parlare di questo argomento. Prima nota interessante, qui ho riportato il titolo di uno studio, ovvero come gli zuccheri provenienti da cibi e bevande, poi vedremo quali sono, causano disordine mentale e depressione. Questo è uno studio fatto dal dottor Knappel, se così si pronuncia nel 2016, dove su 23.245 persone che sono state sottoposte a questo studio, nel 23% di queste persone c'è stato un aumento di depressione e ansia. Ok? In realtà i cibi condannati non sono lo zucchero bianco solamente, ma sono tutta una serie di cibi che tutti i giorni consumiamo e che non si direbbe, perché molte persone non se lo aspettano, ma pane, dolci, pizza, farine, cereali, pasta, latte, Quindi tutti i cibi che si consumano tutti i giorni, per la maggior parte addirittura vengono consigliate per un 60%, cioè è buona norma consumare un 60%, prima di tutto creano una dipendenza che è 8 volte quella della cocaina, quindi questi cibi creano una dipendenza di 8 volte più potente della cocaina e già questo è sconvolgente. Qual è il meccanismo di questi cibi? Il meccanismo è che questi cibi ti danno sicuramente una forte botta di energia appena li mangi, quindi ti danno sicuramente un picco e ti danno anche un picco di insulina, che in realtà poi è un ormone che fa ingrassare, quindi qui sai problemi di peso, se stai consumando questi cibi sappi che sono insulinergici, stimolano un eccesso di insulina, ok? Perché hanno troppa energia, pochi nutrienti, troppi zuccheri contenuti all'interno e scatenano una forte produzione di insulina, ma subito dopo che cosa succede? Che hanno un calo, quindi mi danno un grande picco ma poi mi danno un calo ed è qui che si crea stato d'ansia, si crea debolezza, si crea stato di tristezza, si crea poca energia e quelle che chiamerei basse frequenze, cioè mi sento proprio giù, ok? E attenzione, questo ciclo, perché quando sono qui che cosa dice il mio corpo? Ne voglio ancora, ne voglio ancora per tornare a sentirmi bene e quindi si crea un circolo che per tante persone non finisce più e è ricorrente più volte al giorno. Proviamo a pensare a una persona che si sveglia mediamente e fa colazione con fette biscottate e marmellata, poi a metà mattina il frutto e basta, poi il piatto di pasta, poi alle 4 di nuovo il cappuccino o uno snack o cracker per la peggiore. Capite che queste persone sono all'interno di un circolo che non è virtuoso, è vizioso. Quindi che cosa fare se siete all'interno di questo circolo e non sapete cosa uscire? Allora due cose io consiglio, la prima è gratuita, potete andare sul mio canale youtube Luca Veronese, che è questo, e guardarvi il video dipendenza da cibo e come uscirne per sempre. Dopo che avete visto questo video o se volete fare qualcosa di più impattante, risolvere il problema della radice, qui sotto nella descrizione trovate la guida la libertà alimentare, che è una guida fantastica, che non prevede la conta calorica, non prevede di suddividere i macro, non prevede restrizioni, quindi una vera libertà alimentare con tutti quelli che sono i cibi idonei per perdere peso, per migliorare la massa magra, per stare bene, per ritrovare le energie e per la massima salute, per la massima performance. Quindi questi sono i consigli per oggi, i cibi contenenti zuccheri da bevande, quelli che abbiamo visto, non vanno bene e possono favorire l'aumento di depressione e di stati d'ansia. Noi ci vediamo, alla prossima!